Ed eccoci ragazzi, benvenuti per la primissima volta su Fall Guys in compagnia di lui L'essere più potente in tutto... no vabbè sto scherzando Blaziken68 Ciao a tutti ragazzoli, scusate mi è scoppiata la voce per un attimo Ciao a tutti ragazzoli, benvenuti, bentornati Fall Guys In un nuovo video, siamo di nuovo, stai partendo con la tua solita intro Ragazzoli il gioco lo conoscete, ovviamente iscrivetevi al canale di Blaziken E ovviamente, inutile che ve lo dico, i video con tube arriveranno prestissimo Tanti sti giorni sono già usciti, in un appena possibile ragazzi arriveranno un video anche con lui Su Fall Guys, altri giochi, ormai lo sapete benissimo Ma vediamo un po' Gianfra Gianfra, allora la sfida di oggi è Se Blaziken vince il video finisce, quindi il video non finirà mai No, sto scherzando, a parte questo ragazzi, a parte lo scherzo Gianfra, una scommessa la dobbiamo fare Vai, però starta prima, che è successo? Ed è ancora migliore questa scommessa Ma aspetta, ma tu stai giocando? Io sono partito Gianfra Ma che fa, sembra la stessa cosa sto gioco, ma è scemo Gianfra, non ti sei voluto connettere con me, ho capito Se vinco, mi offri non solo la skin delle patatine fritte, ma anche una porzione di patatine fritte reale E poi dovrà esserci la foto ufficiale su Instagram Gianfra, io te lo dico, se volete questa cosa ragazzi lasciate un like Eh, va bene Ci stai Gianfra? Sì, sì Gianfra non ti puoi tirare più indietro, eh? L'hai detto ormai Ma dove sei? Eccolo, eccolo Allora, io sono partito primo, quindi vai Ah, prima porta in faccia No, non è vero Non è vero Non è vero Vai Allora, Giuseppe, aspetti, ti devo vedere perché mi devo godere le porte in faccia che prenderai Quindi, oddio Mamma mia, Gianfra che sta succedendo? Ma qual è? Oh, ma non si apre mezzo Guarda lì, Giuseppe No, Giuseppe, sono capitato dietro Buono, buono Sono molto dietro Eccolo, eccolo, ti vedo, ti vedo, ti vedo Gianfra, speriamo che perdi Guarda, guarda, Giuseppe, guarda, come stanno ascettando tutti Mamma mia, mi stanno recettando, Gianfra Mi stanno accappottando, aiuto We, 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 qua non ce la faccio, mi sa Io ci provo qua No, lui, scusami, Giuseppe Non si dice Gianfra, non iniziare No, vabbè, no Io mi sono qualificato No, no, non rientro, non rientro, non rientro, non rientro Non ce la mi sono rientrao Mamma mia, Gianfra E questa già l'hai persa, eh? La stessa figura che hai fatto tu all'inizio, ottimo Ma quale figura che ho fatto? Io ho vinto Eh, nel mio video Ah, nel tuo video, scusami Eh, Gianfra E mamma questo che cos'è? Fu curiosità, ovviamente ragazzi lo diciamo adesso Noi non siamo pratici Stiamo facendo un po' qualche video Ma per capire un po' Ah, Gianfra, questo dice Parla per te Parla per te Ah, tu sei pratico? Tu che hai perso al primo round Oh Vabbè Dai allora, ti devi Cerca di buttarti L'amatoio Santissima Benedetta Incredibile, impressionante Mamma mia, vuoi che check point? Una bellezza, ottimo Allora, cerca di buttarti sempre su quelli lì più alti Cioè, come devo dire Fai il salto da... Sì, 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 è chiaro, è chiaro Dalla porzione più alta Ma c***o, insomma No, 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 ho capito, è chiarissimo Io qua sono tra i primi, eh Devo dirlo Vai Giuseppe, vai Vai Brosef the Gamer Vai che ce la possiamo fare Vai, vai, vai Oh, oh Eh, sì Ce la faccio Sono Vai Giuseppe Sono tra i primi sei Sei tra i primi sei al mondo Wow Gianfra, ma non è al mondo Sì, sì Ma no Sì, sì No, dovete equilibrare Ignatus Deve equilibrare Ma che stanno a fa... Vai, 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 vai Aspetta, aspetta No, no, no Perché mi devi far cadere giù No, Giuseppe Io questa magona arrivo qua Gianfra Guarda quanto stai avanti Gianfra, io sono il quarto Ma come faccio adesso? Sono arrivato terzo Gianfra, mi sono qualificato terzo, quarto Sono fortissimo in questo gioco No, vabbè, dai Ma che è? Ma dove stai? Eh, ma questi mi stanno a schietta proprio Ti vedo, Gianfra, ma dai Ma roba che scarso Guardalo Guarda che scarso Ma vedi che succede? Gianfra non farò scarso Ma vedi che succede? Gianfra Eh, lo stai, giuseppe Guarda che sta combinando qua Gianfra, ma cosa fai? Ma che ne so che fai? Gianfra, ma sei confusissimo Gianfra, guarda, dove stai? Ma do... No, Gianfra, qua hai perso Dai, 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 dai Dai, che forse sta qualcuno più scemo di me qua Che non lo so Gianfra, impegnati, eh Oh, ottimo 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 Zitto Gianfranco, manco tu come hai fatto Gianfranco 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 No, Gianfra No, non ce la faccio Qua è impossibile Vai, vai Gianfran, non ti buttare Mamma, Gianfran, come fa guittà un'altra volta Ma io non ero così scarso su sto giochino, però Sì, vabbè, in quale altro universo parallelo? Giuro, non ero così scarso su sto giochino Mi piaceva pure Guarda qua, guarda qua Guarda, è impossibile qua È impossibile Gianfranco, ma secondo me non hai capito le meccaniche del gioco Guarda, è impossibile andare di qua No, c'è Guarda Vai Guarda Vai mo Gianfranco Gianfranco ce la fai, Gianfranco ce la fai Veloce Gianfranco a sinistra Sì Sì No Gianfranco a sinistra Sì Sì Vai, Gianfranco corri No Gianfranco Ma no Perché mi hai eliminato? Perché mi hai eliminato? Mamma mia Gianfranco alla prossima E alla prossima il video finisce, te lo dico Concentrati Gianfranco ti voglio concentrato A che stai pensando? Allora, siamo in pieno agosto La palestra Cioè, penso starà chiusa Posso dirlo? Guarda, ma com'è possibile? Seconda volta che perdo al primo minigioco Ah Questo è bello Questo è bello Ah, questo è proprio bello Veramente questo Sì, sì Gianfranco, non ti sbattere troppo Che tu stai comunque a difetto Che mi devi una Questo è mio Questo lo vinco io Sì Però ricordati la porzione di palatine fritte Lo vinco io questo, vai Sì, sì Allora Giuseppe, è inutile che vai stretching là Già, però, ma tu voglio proprio vedere Ne hai capito? Vai, 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 vai Ma tu facci vedere il campionissimo Sono un campione Sì, sì Ci credo, ovviamente Sono il campione del mondo Vai, vai È una f***a Porta di me Gianfranco No, vabbè Peccato che non c'è il mio gameplay Che cosa ho fatto? No Madonna mia No, meno male che ho detto Quello del campione del mondo Giuseppe, io mi sto schiattando Qua No, io qua non arrivo Sono fortissimo, Gianfranco Già, sei arrivato? Ma Sono arrivato settimo Vabbè, dai, ragazzi Allora qua ci vuole un po' di allenamento Gianfranco Gianfranco Ti inquadro Guarda che sta facendo Gianfran, lanciati Lanciati No, no Gianfranco Gianfran, non è possibile Un'altra volta Ma Da oggi Tu sarai Blaziken Descarzo Già la faccio più Gianfran Mamma mia E tu Parla per te Io ci so giocare Sì, sì Sto vedendo Santeggia pure Capi? Poi io ci so giocare Così con lì Cioè, a fine mo Io ho dovuto Ma ti rendi conto Che ho dovuto quittare 3-4 game Nei quali Gianfran arrivavo Nemmeno tra i primi 10 Cioè, tra i primi 5-6 Poi, piti Mo facciamo il prossimo Tu vinci E tipo io vengo escluso Capi? Vediamo Dai, questo ce lo facciamo Gianfran, non credo proprio Ma come non credi proprio? Gianfran, tu mo qua Secondo me arrivi sotto sotto E poi vieni escluso Mo ti faccio vedere Vorrei che mo questo Lo vengo io e tu lo perdi Gianfran, se succede Eh Ti offro io a te La porzione di patatine Vediamo Vabbè Vabbè Oh, guarda questo Ma che fa Che te ne va indietro Ottimo Vai Allora, le prime Ah, vabbè Che bordello Guarda Giuseppe Come va sempre avanti Lui, oh Gianfran, io sono fortissimo Su questo gioco Forse non è chiaro Guardalo, guardalo, guardalo Ho sbagliato qua Giuseppe, che fai? Cap'è il muro là Ho sbagliato Hai preso il muro, fratelli Non sbaglio No, no, l'ho preso Ho preso il palo Ho preso il paletto Vai, 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 vai Guarda Blazi come li supera tutti E poi si Ma tutti chi? Mi chiede il bordello Non lo so Non mi sognare Giuseppe Oh, Gianfran Sono un drago bianco Occhio e blu Sono arrivato tra i primi dieci Di nuovo Ma perché io Io sto facendo un giro di schifo Ma allora Giuseppe è un miracolo se ce la faccio Un miracolo se ce la faccio o non ce la faccio Mamma mia Gianvra 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 A parte che mi devi offrire la porzione di piatta di nemmola voglio Gianvra ma in questo video lo posso dire Non ti offendere ma sei stato un fallimento Gianvra ma Cioè non ne hai vinta Non ti sei qualificato una volta Ma com'è possibile No Gianvra l'hai fatta a po' Dimmi che mi hai trollato perché è l'unica spiegazione Giuro Giuseppe ha un millimetro dal Dal coso Ah boh Gianvra aspetto La tua porzione di patatine quando ci beccheremo Ragazzuoli io stoppo quel video Perché Gianvra non è il suo gioco Non aggiungo altro perché sennò si offende Ragazzuoli Altri video arriveranno anche in compagnia di tube Io qua vi saluto E Gianvra cos'hai da dire a tua discolpa qualcosa Che sono più forti a Mario Kart che su questo gioco Ah vabbè dopo questa Ciao a tutti ragazzuoli Lasciate like Iscrivetevi Sapete già tutto Un bacio Ciao